Oggi la situazione in Veneto ha una sua stabilità, una sua sufficiente tranquillità, pur essendo in emergenza, nel senso che ormai tutti i fiumi sono ad altezze sufficientemente tranquille. C'è sempre la bassa padovana che crea preoccupazione, sulla quale ovviamente c'è un monitoraggio continuo. In questo momento ci sono 2.500 volontari e 2.000 persone delle forze dell'ordine e dello Stato presenti in Veneto per monitorare il sistema. È ovvio che la preoccupazione sta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando l'acqua se ne andrà dai fiumi e quando poi la neve si scioglierà in montagna. Lì vedremo cosa ci lascia dietro. Sono caduti solo nell'ultima settimana più di 3 metri di neve, neve che con la temperatura che ahimè non si abbassano, in certe situazioni diventa molto più pesante della sua normale pesatura e quindi le difficoltà che crea, anche lì c'è tutto uno staff che sta giorno per giorno, locale per locale, edificio per edificio, pulendo i tetti perché ovviamente c'è il rischio di crolli e ovviamente facendolo a coordinati col sistema di protezione civile. Nei prossimi giorni, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'assessorato, saremo presenti proprio non solo per verificare in persona, perché abbiamo un monitoraggio continuo, ma soprattutto per far capire alle popolazioni locali che ci siamo, che l'ente pubblico c'è, ci deve essere e che deve dare i giusti sostegni a un dramma che stanno vivendo.